Pneumatici Valtellina. Anche il volontariato sempre di più messo in crisi dalla crisi. Con i tempi che corrono, ottimizzare risorse e disponibilità economiche può diventare un'impresa ardua. E così anche strutture come l'Avops, il centro servizi per il volontariato nato e cresciuto a Sondrio, grazie a un tessuto sociale e associativo ricco, peroso e instancabile, inevitabilmente optano per accorpamenti e fusioni, nel caso specifico con altre realtà lombarde gemelle come quelle di Lecco e Monza. Questa fusione permetterà ai vari operatori dei tre CSV di specializzarsi e quindi di acquisire delle competenze che prima mancavano e quindi di poter offrire dei servizi più puntuali e incisivi sulla base delle richieste che vengono fatte dalle nostre associazioni. Ma cosa cambia esattamente con questo accorpamento? Ci guadagneremo, assicurano i vertici di l'Avops, sia in capacità di risposta, sia in operatività. Innanzitutto serve da punto di vista operativo, cioè garantisce la capacità operativa nei tre diversi territori in modo maggiore, visto che poi il personale sarà un personale più ampio. Garantisce tra l'altro una maggiore circolazione di progetti e garantisce anche una stabilità dal punto di vista finanziario maggiore di quella che potrebbe esserci mantenendo il CSV di Sondrio nel suo splendido isolamento.